nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen sia lodato gesù cristo sempre sia lodato bentornati carissimi bambini a questo incontro settimanale con la dottrina cristiana iniziamo subito con la preghiera del ti adoro ci rivolgiamo a dio e gli diciamo che gli vogliamo bene e lo adoriamo ti adoro mio dio e ti amo con tutto il cuore ti ringrazio di avermi creato fatto cristiano e conservato in questa notte ti offro le azioni della giornata fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria preservami dal peccato e da ogni male la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari amen e adesso diciamo un ave maria come siamo ormai abituati a fare per il nostro santo padre il papa benedetto sedicesimo per i nostri cari e per tutte le persone che soffrono ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ecco iniziamo il nostro incontro avete visto sullo sfondo un angelo perché oggi parliamo degli angeli ecco dovete sapere che dio ha creato abbiamo visto insieme che ha creato l'universo i pianeti le stelle il sole ha creato gli animali le piante ha creato i minerali le montagne ha creato l'uomo ma dio non ha creato soltanto delle creature che si vedono materiali ha creato anche delle creature invisibili che non si vedono spirituali per esempio ha creato l'anima dell'uomo l'uomo è fatto di corpo e di anima il corpo è materiale si vede l'anima è spirituale non si vede però c'è poi ha creato degli esseri che non hanno il corpo e sono tutti spirituali questi esseri queste creature sono quelle che noi chiamiamo angeli gli angeli dio ha creato tantissimi angeli e quando li ha creati li ha creati prima ancora di creare l'uomo prima ancora di creare adamo ed eva dio aveva creato gli angeli che sono puri spiriti sono esseri intelligentissimi hanno un'intelligenza molto 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 superiore a quella degli uomini già l'uomo è intelligente è dotato di capacità grandiose nell'ambito dell'universo ma gli angeli ancora di più sono creature belle straordinarie sono creature che vivono dove vivono gli angeli la loro dimora è il paradiso vivono sempre accanto a dio lo servono lo lodano godono della sua presenza e sono i suoi ministri guardate io spero che abbiate tenuto il quaderno della dottrina cristiana quel quaderno che io vi ho invitato a tenere incontro per incontro il titolo quindi che dovete scrivere nella pagina di oggi è questo dio ha creato gli angeli questo il titolo che dovrete scrivere poi dovete scrivere le domande e le risposte che questa settimana dovrete imparare a memoria sì a memoria perché quello che imparate da bambini a memoria vi resterà per tutta la vostra vita e se non lo imparate adesso non lo avrete mai più in memoria perché la mente dell'uomo adulto è occupata da molti pensieri che voi adesso non avete perciò allora scrivete il titolo bello grande dio ha creato gli angeli e sotto scrivete la prima domanda chi sono gli angeli punto interrogativo guardate lasciate perdere il numero 3 il numero 3 che non mi interessa vediamo se riesco ecco chi sono gli angeli e scrivete gli angeli sono i ministri invisibili di dio virgola e anche nostri custodi cosa vuol dire la parola ministro cioè servo vuole dire servo sono coloro che servono dio perché obbediscono sempre a tutti gli ordini di dio è vero che vivono in paradiso ma scendono sempre sulla terra per eseguire gli ordini di dio sono molto obbedienti gli angeli sono obbedientissimi a dio sono invisibili questo l'abbiamo detto prima perché sono fatti di spirito e non hanno il corpo materiale gli angeli sono i ministri invisibili di dio virgola e anche nostri custodi cosa vuol dire la parola custode che protegge proteggono ciascuno di noi ci custodiscono ci guidano e ci suggeriscono le cose giuste da pensare da dire e da fare guardate questa bella illustrazione ecco questa bella illustrazione ci presenta una bambina che si incammina in un bosco forse può perdere la strada più avanti sullo sfondo vedete un deserto con delle palme ecco la vita e fra è fatta proprio così è un cammino in mezzo a boschi impenetrabili cioè in mezzo tanti problemi pensate i vostri genitori tanti pensieri tante preoccupazioni e a volte in mezzo a deserti di solitudine di sofferenza di difficoltà ebbene l'angelo custode perché ciascuno di noi bambini da quando è nato viene affidato da dio a un angelo ognuno di noi ha un angelo che lo protegge e lo guida per tutto il cammino della sua vita vedete questo angelo indica intanto ha una mano sulla schiena della bambina in segno di protezione e ha un'altra mano con la quale indica la luce di dio affinché la bambina non si perda non si perda nel cammino della sua vita questo è l'angelo custode nessuno di noi è veramente solo nella vita non siamo mai soli ma sempre abbiamo accanto il nostro angelo anche tu hai il tuo angelo che ti guida e ti protegge ascoltalo perché ti conduce verso dio ascolta le sue ispirazioni vediamo un'altra immagine che volevo farvi vedere gli angeli ci chiediamo sono tutti buoni purtroppo no purtroppo no che cosa è avvenuto guardate vi illustro che vi spiego questa immagine lasciate perdere il titolo angeli e demoni perché il nostro titolo di oggi è dio ha creato gli angeli ma questa immagine mi serve per farvi capire che quando dio ha creato gli angeli quindi molto tempo prima della creazione di adam o ed eva li ha anche messi alla prova e allora tutti gli angeli obbedienti a dio sono rimasti in paradiso ma coloro che si ribellavano a dio a causa del loro della loro superbia sono stati cacciati dal paradiso e sono scesi nell'inferno ecco qui vedete il capo degli angeli che san michele arcangelo il capo della schiera degli angeli buoni di quegli angeli che obbediscono a dio che sono obbedienti a dio qui invece segnato dalla mia matita c'è il capo della schiera degli angeli ribelli e disobbedienti che è lucifero il diavolo satana questi sono i nomi del capo degli angeli ribelli che sono stati precipitati in seguito a una battaglia che c'è stata in cielo sono stati precipitati nell'inferno il diavolo guardate che che bella immagine bella nel senso che è molto significativa ci deve insegnare tante cose trionfa michele con la sua obbedienza col suo amore per dio e viene sconfitto satana con la sua disobbedienza la sua ribellione il suo odio per dio e per le creature vediamo allora questa altra illustrazione dove vediamo che noi abbiamo sempre accanto l'angelo custode questo angelo custode tutto circondato dalla luce di dio bellissimo che tiene una mano sulla spalla del bambino un bambino che sta pregando e con l'altra mano scaccia satana perché noi abbiamo sempre accanto l'angelo custode che ci ispira le cose buone ma purtroppo abbiamo sempre qualche diavoletto brutto vedete come sono diventati brutti dopo la disobbedienza orrendi abbiamo sempre qualche altro diavoletto che ci vuole dire no non fare come ti suggerisce l'angelo ma fai come ti suggerisco io vedete bambini quanto importante imparare la l'obbedienza ai nostri genitori essere obbedienti ai genitori è importantissimo perché all'angelo custode piacciono i bambini obbedienti ecco quindi scriviamo anche la seconda domanda perché questa volta dobbiamo imparare due domande la prima l'abbiamo già scritta naturalmente fermerete l'immagine per poter scrivere bene la seconda lasciate perdere il numero otto non ci interessa la seconda domanda di oggi è i demoni chi sono i demoni sono angeli ribellatisi a dio per superbia e precipitati nell'inferno i quali per odio contro dio tentano l'uomo al male ecco vedete i bambini gli adulti tutti quanti abbiamo l'angelo custode vicino questa immagine ma abbiamo sempre anche qualche diavolo che ci suggerisce di fare il contrario di quello che ci dice l'angelo noi dobbiamo scegliere di obbedire all'angelo custode e non al diavolo dobbiamo essere molto fermi in questo avete capito ecco in ogni pericolo dice questa in ogni pericolo dell'anima e del corpo chiedi sempre l'aiuto del tuo angelo mi raccomando bambini nella vita ci sono tante difficoltà anche i bambini voi avete le vostre difficoltà quando vi trovate in pericolo quando avete qualche preoccupazione chiedete l'aiuto del vostro angelo custode perché è sempre accanto a voi dobbiamo amare rispettare la sua presenza perché egli ci vede sempre vede tutto quello che facciamo e a lui dispiace molto se facciamo le cose sbagliate voi vi voglio insegnare ma forse lo sapete già la preghiera dell'angelo di dio ma anche se la sapete non importa la scrivete sul vostro quaderno perché questa va imparata assolutamente tra l'altro è anche molto breve e anche molto breve come preghiera eccolo qua guardate guardate quante belle immagini sull'angelo custode angelo di dio sentito la angelo di dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste amen la pietà celeste è la bontà di dio dio nella sua bontà ci ha affidati ad un angelo per tutto il tempo della nostra vita che dono grandioso bisogna proprio dire grazie a dio inoltre farete sul vostro quaderno anche un disegno ispirato proprio all'argomento di oggi che può essere la battaglia degli angeli buoni contro gli angeli cattivi la vittoria di san michele può essere invece l'angelo custode che ci protegge ecco vedete voi quale tema volete scegliere e terminiamo questa questo incontro questo breve incontro ancora con l'angelo di dio che è da imparare assolutamente questa settimana vedete che io vi insegno delle cose molto molto semplici elementari i più grandicelli di voi potrebbero dire ma io queste cose le so già ebbene le ripassano e se le sanno già poi possono anche seguire l'altra rubrica che tengo sul mio profilo e che si intitola la storia sacra ecco potrebbero anche ascoltare quella i più grandi celli angelo di dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e govername che ti fui affidato dalla pietà celeste amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen arrivederci alla prossima puntata sia lodato gesù cristo sempre sia lodato